Questa bellissima torre annessa al Palazzo Mamiani è stata destinata all'arte contemporanea. L'arte contemporanea che non è un settore di nicchia, come di solito si ritiene, ma è invece il modo in cui tutta la storia, tutto quello che c'è stato nella storia, nella storia dell'arte, può diventare qualcosa che tutti possono comprendere perché è contemporaneo. Quindi la nostra idea è di aprire non uno spazio altamente specialistico, anche se ci sono dei testi che sicuramente gli studenti dell'Accademia, dell'Ivia o comunque gli studenti anche del liceo artistico potranno utilizzare e volentieri metteremo a disposizione, ma lo facciamo soprattutto con lo stesso spirito con cui abbiamo organizzato tutte le altre iniziative, sia con Pesaro che con Vallefoglio, cioè far conoscere meglio la storia, la cultura, il territorio appunto di Vallefoglio. Sono solo libri d'arte, quindi si connettono alla biblioteca che già esisteva a Sant'Angelo in Bussola, e sono libri che servono per partire, per avere degli spunti da cui partire per laboratori, residenze, iniziative, eventi che sono finalizzati sempre a conoscere di più la storia, non solo di Sant'Angelo ma di tutta Vallefoglio ovviamente. C'è anche una sezione dedicata proprio ai libri sulla storia della provincia di Pesaro Urbini, quindi un po' per conoscere meglio questo territorio. Poi ci sono libri strettamente legati proprio all'arte contemporanea, all'arte del passato, quindi l'idea è che diventi uno spazio frequentato da chiunque, dai ragazzini, dalle persone appassionate, dalle persone curiose, e noi faremo in modo di attivarlo attraverso appunto degli eventi. Questo nel piano terra. Nel primo piano verrà collocata per due anni un'opera d'arte di cui ancora non diciamo nulla, un'opera d'arte di grande rilievo internazionale, che ci collega a Cesaro, perché è un'opera che è stata realizzata per il Rossini Opera Festival tanti anni fa, è tenuta diciamo fuori dalla portata, dagli sguardi dei fruitori per tantissimi anni, quindi saremo molto felici di collocarla qui, e poi lo spazio successivo, gli altri due piani, sono destinati ai laboratori, laboratori soprattutto per gli adulti, perché lo spazio non è magari fluibile più tanto dai bambini, per i bambini useremo sia lo spazio al pian terreno che fuori, che è molto bello, e una torre tutta dedicata all'arte. È un'ulteriore opportunità sull'arte contemporanea, diciamo che arricchisce un sistema bibliotecario che è gestito dall'Unione dei Comuni e che trova qui a Sant'Angelo già, con questa ulteriore apertura, un'integrazione della biblioteca esistente. C'è una grande speranza di futuro, soprattutto per le nuove dimensioni.